L'allarme giunge dall'ADN Cronos e dal Secolo d'Italia che citano espressamente Cremona tra le 22 province italiane a rischio virus del Nilo occidentale. Tanto, scrive il giornale, da indurre il Centro Nazionale Sangue a disporre la sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori e degli emocomponenti che abbiano soggiornato anche per una sola notte nella nostra provincia tra l'estate e l'autunno. Come Cremona, anche le vicine Piacenza, Brescia, Mantua, Lodi, Reggio Emilia, Modena, Pavia, Milano e molte altre ancora. La pianura padana figura tra le aree più colpite. Il virus che si trasmette tramite la zanzara comune provoca un'infezione in oltre l'80% dei casi asintomatica, in meno del 20% simile a una banale sindrome pseudo-influenzale, ma nell'1% dei casi potrebbe provocare meningite o meningoencefalite. Secondo quanto dichiarato al quotidiano e all'agenzia da Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, gli esperti ritengono che l'arma migliore sia quella della disinfestazione delle zanzare, ma quando assente o insufficiente, il virus originatosi in Africa molti anni fa e poi diffusosi in tutto il mondo, si sposta nell'organismo tramite la circolazione sanguigna, se non raggiungere il cervello e il midollo spinale, provocando un'infiammazione con sintomi neurologici gravi e potenzialmente fatali. Notizie davvero inquietanti quelle diffuse da DN Cronos e dal secolo d'Italia, notizie in merito alle quali vado a sperare che le autorità sanitarie possano fornire risposte rassicuranti.